Questo signor Catalanotti, che è un benestante, che poi scopriremo fare anche lo strozzino, cioè prestare i soldi a strozzo, in realtà non è proprio una personcina tanto normale, nel senso che in qualche modo è come se se viziasse i suoi attori, li porta per mano in un percorso conoscitivo del proprio personaggio e del ruolo che devono svolgere, che insomma non è normalissimo, lo dice uno che nel teatro c'è nato, campato e cresciuto. Camilleri ci ha insegnato ad amare, a presentare il suo personaggio come un personaggio che amava la sua terra, il suo mangiare, la sua casa, le sue notate mattutini, la sua solitudine, il suo lavoro, la sua squadra, la sua donna, anche se lontana. Ebbene, in questo romanzo mette un po' tutto in discussione, come non ha mai fatto, perché noi abbiamo visto in altre situazioni, in altri libri il commissario perdere la testa o prendere una sbandata per una donna. In questo caso questa sbandata è qualcosa di più di una sbandata, tanto che mette in discussione tutto. Quindi questo significa che è stata una tale, come dire, stangata, questo sentimento che è piombato improvvisamente nella storia di Montalbano, che serviva un modo per raccontarlo. Insomma vedremo anche un Montalbano diverso nel parlare. Sì, perché lei pensi che noi abbiamo fatto, ci siamo dovuti inventare, quando abbiamo iniziato, un modo per rendere la scrittura camilleriana. Ora, in questo caso qua, noi dovevamo rompere questa coerenza. Perché? Perché sulla scena irrompe un sentimento vero, autentico. Serviva un uomo che dicesse a una donna, io ti amo pazzamente sopra ogni altra cosa. E quindi non lo poteva dire alla Montalbano, ci dovevamo inventare un altro modo. Su questo finale di Montalbano si è discusso se tornerà o meno, questa è l'ultima puntata. Esistono altri due romanzi che non sono stati portati, quindi se si dovesse decidere di continuare lo si farebbe solo per altri due episodi, per altri due film. Ma a parte questo, io ho anche detto che un anno fa che non me la sentivo di tornare sul set, non mi andava. Mi avrebbe fatto troppa tristezza tornare su un set condiviso con degli amici e dei complici per tanti anni e poi non trovarli più. Poi mi sono detto, ma forse ha proprio senso portare a termine questa cavalcata, questa epopea, proprio anche in nome loro e concluderla e finirla, farne altri due e finirla lì. Oggi come oggi, è vero che è passato un anno, ma è anche vero che è stato un anno in cui il tempo si è fermato. Quindi non c'è stato né modo di elaborare il lutto, né anche di elaborare una riflessione su che cosa fare. Intanto vorrei dire che mi piacerebbe che il pubblico assistesse a questo nostro ultimo episodio girato come se fosse l'ultimo, cioè con la stessa attenzione, insomma, che fosse una chiamata a raccolta del nostro popolo, perché mi piacerebbe che fossimo con lo stesso entusiasmo, con lo stesso affetto e soprattutto con lo stesso numero tutti davanti al televisore. Grazie.